toplessino facile pranzetti con argomenti di un certo livello che non andremo a spiegare è meglio è meglio il vibratore non 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 Oh, 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 let's go dancing to Cefalu, che bellezza Dai Oscar, non può cominciare, vabbè Tre Let's go dancing till the morning, oh, oh And we are now gonna go, oh, oh, oh Let's go dancing till the morning Boom 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 Grazie a tutti. Ma anche questa è la bellezza. Che belle, ragazze. E tu, fai vedere tu. No. Che belle. Ho visto così. Com'era quella legge norvegia che bisogna farsi vedere senza filtri? Vabbè, ci sta. So' figa che sento. Per la serie non si molla un... Niente. E noi siamo così. La mattina. A fare la speedball che non ho fatto ieri. Olè! Ragazzi, siete tutti carinissimi perché mi state chiedendo come sto, visto che ieri vi ho detto che stavo male. Allora, in realtà sto bene. Ieri avevo un attimo di debolezza, in realtà mi succede quando magari sto troppo fuori casa. Quindi tutto ok? Grazie, ragazzi. Tant'è che oggi sono andata a correre, cioè a correre, scusate, a camminare oggi. E adesso sto facendo un po' di stretching. Che ricordatevi, è importantissimo fare lo stretching. Importantissimo. E non mi ha fatta venire da sola. Eccoci! Le Freilor, guardate che bella vista. Stiamo a camminare in mezzo alla natura. Buona domenica a tutti!